Botteghe ed appartamenti di proprietà dell'Istituto Autonomo Case e Popolari occupate abusivamente è un fenomeno sociale grave ed in crescita che le istituzioni a Messina non riescono a contrastare tra i casi più eclatanti e recenti quello del centralissimo isolato 91 tra le vie Trieste e Aurelio Saffi a pochi metri dal viale San Martino qui gli abusivi hanno ormai preso il sopravvento affittare le botteghe regolarmente è sempre più difficile perché o sono murate per paura di nuovi insediamenti o già occupati da chi ha sfondato le protezioni i numeri del possesso abusivo degli immobili IACP sono sempre più preoccupanti una cinquantina le botteghe ad oggi trasformate in dimore una ventina quelle in vie centrali di Messina e tra appartamenti e locali commerciali in tutta l'area metropolitana sono circa 700 le occupazioni abusive un censimento che varia continuamente anche se il fenomeno era già stato fotografato nel corso di un tavolo tecnico convocato in prefettura già nel 2011 grazie al quale erano stati anche conteggiati i nuclei familiari e valutate le loro composizioni da allora le occupazioni risultano in crescita con aumenti fatti registrare in particolare nel 2013 alcuni sgomberi sono già stati predisposti perché devono essere comuni con i loro vigili urbani ad intervenire ma concretamente nulla o quasi è stato fatto il disagio sociale di tanti nuclei familiari in molti casi è diventato prepotenza e le istituzioni non hanno saputo né aiutare i bisognosi né a reagire a palesi violazioni delle leggi e così i casi negli anni si sono moltiplicati occupazione abusive anche all'isolato 76 in via Risorgimento in piazza Castronovo e perfino nell'ex caserma dei carabinieri di Camaro